ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi un video molto breve in cui vi farò vedere un dispositivo che viene molto utilizzato all'interno comunque nell'installazione di impianti anti intrusione cosa sono gli impianti anti intrusione ovviamente sono quegli impianti che vanno a monitorare un determinato luogo e ne praticamente permettono la segnalazione da remoto comunque una segnalazione visiva o acustica di un'intrusione quindi un'intrusione di un ladro o di qualcuno all'interno di quella determinata zona gli impianti anti intrusione sono formati da ovviamente una centralina che a cui convoiono varia varia sensoristica alcuni di quei sensori che sono molto utilizzati sono questi qua ovvero vengono chiamati i classici contatti porta o contatto finestra nel senso che sono dei contattini che si mettono in prossimità di un ingresso che sia esso una porta o sia esso una finestra e sono praticamente dei contatti magnetici sono formati da due parti una parte in cui sono presenti i fili ed è la parte relativa a diciamo è la parte in cui viene inserito il contatto in questa parte qui infatti come vedete escono dei fili in cui è presente un contatto questo contatto viene eccitato o diseccitato magneticamente quindi questo qui invece in questa sezione qua di questo sensore è presente una calamita nell'avvicinare o nel distanziare la calamita ovviamente fa variare il contatto all'interno quindi si avrà una variazione sui due fili questi contatti sono diciamo sono utilizzati prevalentemente ovviamente per monitorare delle porte all'interno di impianto antintrusione di solito questa parte qui con i fili viene inserita sul telaio quindi della parte fissa che poi convoglierà all'interno di un corrugato quindi andrà ad una determinata centrale quindi questa qui è la parte che di solito rimane fissa invece questa qui che è la parte in cui è contenuto il magnete di solito viene fissata su praticamente una finestra o una porta quindi questo qui è la parte che si muove quindi che fa azionare o attivare o disattivare il nostro contatto quindi per mezzo di questi fori ovviamente viene fissata con delle viti su un telaio di una porta oppure su un telaio di una determinata finestra e quindi può monitorare in questo in questo modo si può ovviamente monitorare l'apertura e la chiusura di una determinata porta quindi ipotizziamo di avere questo contatto sul telaio fisso della nostra finestra invece questo qui sul telaio della nostra finestra movibile quella che si apre nel momento in cui ad esempio noi andremo ad aprire la nostra porta o comunque a chiuderla ci sarà ovviamente una variazione perché il nostro magnete essendo sulla finestra spostandosi fa variare il contatto questo qui è un contatto normalmente aperto nel senso che quando non è presente una calamita nei pressi di questo contatto si presenta ai capi dei due fili un contatto aperto nel momento in cui si va ad avvicinare un magnete in questo caso il suo magnete in particolare si va a chiudere il contatto e quindi si avrà un cortocircuito quindi un contatto chiuso presente sui due fili allora questi qua sono dei contatti semplici ovviamente all'interno di un impianto antintrusione vengono utilizzati ulteriormente altri sensori più più costosi quelli potrebbero essere sensori radar sensori pir sensori ad infrarosso ma questo diciamo è una buona diciamo un buon sensore che viene di solito utilizzato come potete vedere ad esempio possiamo tranquillamente utilizzarlo con un impianto antintrusione oppure possiamo sfruttarlo diversamente quindi questo non è altro che un normale contatto quindi noi potremmo ad esempio realizzare un piccolo circuitino ad esempio poter monitorare una finestra una porta adesso vabbè era soltanto illustrativo ma in futuro magari vi farò vedere come poter integrare questo contatto con un piccolo circuitino quindi fare una piccola segnalazione acustica fai da te con un piccolo circuitino quindi con una batteria viene ad esempio inserito lì vicino alla porta e tranquillamente potremo monitorare un ingresso oppure banalmente si può inserire integrare con un normale sonoff quindi riusciremo a sfruttare il sonoff le capacità del sonoff per mezzo di questo contatto quindi vi farò vedere successivamente in altri video come poter gestire questo contatto integrarlo con il sonoff quindi avere una segnalazione sfruttare le segnalazioni dal sonoff e magari fare una un impianto o comunque un qualcosa che ci segnali l'intrusione in un determinato posto allora giusto a titolo informativo vi faccio vedere con il tester come funziona questo contatto ci dotiamo di un normale tester lo settiamo in modalità suoneria o comunque continuità e andiamo a valutare il nostro contatto allora togliendo il nostro magnete quindi la parte mobile si ipotizza che la finestra magari sia aperta o la porta sia aperta se noi andiamo a valutare il nostro contatto mentre non è presente il magnete possiamo vedere che non c'è nessuna continuità allora lo metto a monitor come vedete il monitor non segnala nulla e non c'è nemmeno una segnalazione acustica nel caso in cui io vado ad esempio inserire avvicinare il mio contatto in cui è presente la calamita possiamo vedere e anche sentire che il contatto a questo punto è chiuso come vedete dal display del tester io avvicino apre e chiudo il contatto non so se lo sentite comunque come vedete il contatto risulta essere chiuso quindi questo qui è un dispositivo molto semplice molto utilizzato ripeto negli impianti di antintrusione però volendo ingegnandosi in qualcosa si può sfruttare tranquillamente anche con arduino come vi ho detto prima vi farò vedere un piccolo circuitino in futuro per poter fare un qualcosa di portatile oppure integrarlo con il sonoff come potete ben capire è un dispositivo davvero semplice non costa tanto ed è molto versatile l'unica cosa che volevo aggiungere questi contatti qui sono in due versioni ovviamente sono riferiti in caso in cui si va ad inserirli in impianti antintrusione ci sono perché sono facilmente diciamo bypassabili questi contatti come potete capire io posso ad esempio inserire nel momento in cui il mio contatto è chiuso posso inserire una calamita rimuovere aprire la porta il contatto non praticamente non segnalerà l'avvenuta intrusione infatti per impianti ovviamente a norma per impianti professionali di solito vengono installati contatti molto più costosi sempre contatti porta però sono dei contatti antimanumissione cioè all'interno hanno una caratteristica che comunque nel momento in cui viene inserita ad esempio una calamita e viene rimosso quella che è la sua calamita originaria e comunque il contatto lo sente lo capisce e segnala l'intrusione ma questa era giusto una una un'aggiunta in più che volevo dirvi vabbè con questo video termino qui era giusto un video introduttivo per poi farvi vedere questo dispositivo in altri video futuri che ad esempio vi ripeto potrebbe essere un circuitino il sonoff oppure arduino se avete delle domande fatele tranquillamente nei commenti se il video vi è piaciuto mettete un like vi invito al prossimo video alla prossima grazie grazie